Utilizzare questo secondo per domandare a Luigi di prendersi cura delle patenti di guida degli albanesi in Italia perché si sono inciampati nei corridoi assolutamente unici della burocrazia italiana e bisogna farli uscire e così loro possono guidare regolarmente perché come i napoletani noi albanesi siamo molto disponibili a guidare anche senza patente grazie